Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar di inizio 2019, investimenti e trades per il 2019, chiaramente webinar in collaborazione con il broker ATFX, broker del quale questa sera abbiamo anche un esponente. Do il benvenuto a Andrid. Buonasera. Eccoci qua, benvenuto Andrid. Buonasera a tutti. Raccontaci un po' chi sei, chi è ATFX, insomma presentaci un po' al broker con il quale facciamo questo webinar un po' particolare oggi, dato che appunto andremo a vedere quelli che sono un po' i trades e i possibili investimenti più promettenti per il 2019. Ti lascio la parola. Certo, bella sfida che hai Luca per tutte le previsioni del 2019 e se sono curioso io, immagino anche tutti gli altri, che ringrazio a proposito per aver partecipato e per essersi registrato a questo corso di ATFX. Noi siamo un broker con sede centrale a Londra, per chi non ci conosce, in Italia ci siamo stati in qualche evento per il 2018, l'anno passato, spero quest'anno saremo ancora un po' più presenti. Chiaramente per chi è fan di investire, ci ha visto là già per un po' di mesi e comunque per dare giusto una panoramica di quello che offriamo, è un broker Forex e CFD, quindi tutti quelli che vogliono tradare il Forex e CFD su un po' tutto, materie prime, indici, olio, azioni, criptovalute eccetera, è una vasta gamma di prodotti insomma tutti disponibili che vedete anche sulla pagina che abbiamo sullo schermo e anche i spread che abbiamo lanciato promozionali, vedete tra i major 0.6 sull'aerodollaro o 0.14 sul gold oppure 0.9 sul dax, quindi nettamente sotto la media del mercato principalmente. ATFX ha una lunga esperienza di successo nel mercato internazionale, specialmente quello asiatico, ha ufficio in tutto il mondo, da Hong Kong ad Abu Dhabi e la sede di Londra è quella che gestisce un po' il mercato europeo, concentrandoci non solo nel Regno Unito ma anche Italia, Spagna e Germania che sono i paesi dove siamo più presenti. Essendo regolati FCA, quindi dalla regolamentazione londinese, tutti i conti dei clienti sono segregati, assicurati fino a 50 mila e anche sul saldo negativo, quindi non può accadere. Abbiamo vinto un numero di premi come Miglior Broker No Dealing Desk da Personal Wealth Awards, Miglior Broker Forex CFD da UK Forex Awards e Miglior Servizio Clienti anche da JFX Awards, anche quelli li potete vedere sul sito appunto, siamo abbastanza orgogliosi e li abbiamo messi in posti molto visibili. Sugli eventi europei, recentemente eravamo sull'IT Forum per chi ci ha incontrato là a Milano, siamo stati un po' su e giù l'Europa, per esempio Forex Day in Spagna o l'IAC in Portogallo, tanti eventi a Londra anche come vi potete immaginare e spero per quest'anno saremo presenti anche in altre città, Roma, Bologna, Napoli e specialmente Milano, come sempre sono sicuro che torneremo. Per quanto riguarda il servizio clienti, per tutti quelli che vogliono sapere di più, c'è una pagina di contatti in italiano, c'è un numero anche in italiano e un servizio di rappresentanti che coprono questa lingua fino alle 7 di sera e poi specialmente in inglese 24 ore. Volevo prendere anche un ultimo minuto perché so che tutti aspettate appunto il corso, volevo presentarvi appunto il nostro schema di partnerità, investire uno dei nostri partner appunto con cui collaboriamo, però volevo dire che siamo molto concentrati sulla formazione e l'educazione, quindi per tutti quelli che hanno per esempio blog informativi, offrono indicatori o corsi particolari, noi siamo molto predisposti a sostenere quelli appunto che vogliono buttarsi in questo mondo di trading e avere più informazione, quindi per chi offre questi servizi oppure per chi vuole questi servizi, abbiamo appunto un posto per tutti, quindi contattateci per chi ha interesse offriremo tutti i dettagli necessari. Nel frattempo voglio lasciare la parola a Luca perché il 2019 sarà un anno lungo e sono sicuro che ci sono tante cose da coprire. È appena cominciato, è appena cominciato Henry, quindi è un anno un po' particolare perché diciamo che è finito con le borse che hanno avuto dei forti ribassi, ecco prima di cominciare però a parlare di mercati, se doveste avere qualche domanda appunto per Endrit lo potete contattare, nella chat vi ho lasciato anche appunto il link a questa pagina di contatto, chi vedrà poi invece la registrazione troverà questo link all'interno della descrizione del video e appunto per qualsiasi domanda non fatevi problemi perché appunto come diceva Endrit sono lì appunto per darvi supporto e assistenza, quindi non esistono domande stupide, fate tutte le domande che avete senza problemi. Se ve ne vengono già durante il webinar alla fine Endrit sarà, la fine di questo webinar sarà disponibile a rispondere, quindi io te le farò avere queste domande se ce ne saranno e potremo magari rispondere insieme. Con molto piacere, con molto piacere, sì il 2019 è anche un anno molto interessante dal punto di vista fondamentale, già è iniziato male, abbiamo il governo britannico in crisi, abbiamo il governo americano in crisi e quindi spero durante questo corso ci dare anche qualche buona notizia. Il bello Endrit per un trader è che bene non ci sono brutte notizie. Esatto, non ci sono brutte notizie, ci sono solamente notizie che fanno muovere i mercati, di conseguenza appunto il fatto che ci sia una brutta notizia o comunque adesso mi viene da pensare appunto a Brexit, intanto mi sposto sulla piattaforma di ATFX così cominciamo a vedere qualche grafico, il fatto che ci siano delle brutte notizie per esempio come appunto un governo inglese che non riesce a capire bene come gestire la Brexit, piuttosto che sui mercati americani la paura della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ecco sono tutte cose che di fatto hanno creato volatilità, continuano a creare volatilità che nel mondo del trading e degli investimenti è sinonimo di opportunità. Quindi infatti lo vedremo, lo vedremo appunto andando sui grafici, ci accorgeremo di come effettivamente tutta questa come dire indecisione e paura poi si rispecchia molto sui grafici tant'è che per esempio se cominciamo ad analizzare il grafico dell'oro ci accorgiamo di una cosa molto molto interessante, chiaramente adesso andiamo a vedere i grafici dal punto di vista un po' più di lungo termine proprio perché per capire a che punto siamo in questo momento quindi in questo grafico abbiamo il grafico a lungo termine dell'oro, questo addirittura è un grafico settimanale, poi se avremo voglia e tempo andremo magari ad analizzare anche un po' più un grafico di breve respiro e vediamo una cosa molto interessante qui, beh vediamo che prima di tutto abbiamo un trend di fondo rialzista sull'oro, tra l'altro con tutta una serie di volumi che si sono sviluppati e si sono aumentati proprio nell'ultima fase di mercato che chiaramente vediamo su questo grafico a lungo termine. Quindi sembra quasi appunto che tutta questa paura che c'è sui mercati, per esempio sul mercato dell'oro che quindi è una delle materie prime in assoluto più importante sul panorama di tutte le materie prime mondiali, sembra proprio appunto che stia per nascere un'opportunità perché se andiamo a fare una semplicissima analisi tecnica quindi andiamo a unire questi due massimi molto importanti, lo vediamo qui, magari provo anche ecco a fare uno zoom giusto per far capire che cosa ho fatto, ho unito questi due massimi che vediamo appunto sul grafico e che cosa vediamo? Beh vediamo che unendo questi due grafici sostanzialmente abbiamo una possibile importantissima inversione di trend perché vediamo che i prezzi con ancora un po' di debolezza ma si sono portati al di sopra di questa trend line, vediamo che appunto questa trend line ve la faccio vedere di nuovo un po' meglio che congiunge questi massimi veramente molto importanti addirittura di quando l'oro era in area 1753, vediamo che hanno respinto i prezzi nel periodo del 2015-2016 e ora sembra appunto che proprio ci sia una importante inversione di tendenza appunto con questa trend line rotta al rialzo che ci fa capire che con buone probabilità l'oro nei prossimi mesi ma soprattutto nei prossimi anni avrà una tendenza rialzista. Tra l'altro se andiamo a vedere appunto il grafico un po' più nel dettaglio ci accorgiamo di come questa figura che si sta sviluppando è di fatto una figura di accumulazione potrebbe sembrare anche se non è molto bello un testa e spalle rialzista dove appunto si evince che c'è tutta questa parte in cui il gold sostanzialmente si è mosso in movimento laterale molto ampio perché siamo su un grafico settimanale con dei volumi in crescita. Se noi andiamo sotto il grafico a vedere i volumi ci accorgiamo di come un po' come se ci fosse una pentola d'acqua appunto con il fuoco sotto e quest'acqua comincia a bollire. Questa se facciamo finta che sia la temperatura dell'acqua ci accorgiamo di come effettivamente i prezzi potrebbero essere davvero vicini ad un'importante svolta rialzista. Io Andrit mi collego appunto a quello che hai detto tu perché tu sei una persona che tutti i giorni parla con i clienti quindi hai un termometro molto aggiornato in mano che è appunto il sentiment di mercato delle persone con cui parli e se hai cominciato questo webinar dicendo che siamo in un momento un po' come dite voi a Londra vuol dire appunto che il sentiment è questo ed effettivamente è quello che si denota dal grafico dell'oro. Sembra che piano piano sempre più persone, sempre più investitori stiano accumulando appunto questo tipo di posizioni a rialzo sull'oro. Una cosa da dire sul gold ovviamente è sempre stato lo standard di quelli che vogliono un strumento che ha un valore personale diciamo come si chiama. Intrinsico. Intrinsico. Però devo dire che nelle ultime settimane c'è stato anche un sacco di chatter, un sacco di argomenti, discussioni per la connessione che il gold ha certamente con il dollaro americano. Certo. C'è una dichiarazione che la Fed ha avuto su la pazienza perché queste dichiarazioni vanno sempre lette con le righe. Esatto. Ha mandato un po' su appunto anche il prezzo. Quindi quello che tanti trader mi dicono per tornare alla tua domanda e mi chiedono se questo trend infatti continuerà un po' così al rialzo oppure se domani la Fed decide di intervenire appunto sarà una cosa reversibile insomma. Ed è quella la domanda più importante sul gold al momento. Dal punto di vista analitico la tua analisi è assolutamente perfetta e è una cosa che è collegata poi anche ai volumi e fa fa assenso. Sì guarda ti dico io guardando il grafico e poi io non seguo molto l'analisi fondamentale su questo tipo di strumenti e le analisi politiche e macroeconomiche perché credo che all'interno del del grafico già sia tutto scontato e ci siano tutti gli elementi per decidere semplicemente guardandosi indietro guardando quello che è successo nel passato. Devo dire che sull'oro quando vedo il grafico appunto mi sembra proprio che è abbastanza chiara sì. Esatto. Mi sembra proprio una situazione abbastanza chiara di accumulo. Di accumulo cosa significa? Significa appunto che sempre più investitori stiano accumulando una materia prima che tra l'altro è anche molto bassa proprio dal punto di vista del costo dell'estrazione. Ecco quindi diciamo che dal punto di vista fondamentale potrebbe tranquillamente essere una materia prima appunto sottovalutata. Quindi ci sono per esempio per far capire quello che sto dicendo. Sono tantissime le miniere d'oro nel mondo dove in questo momento con questo prezzo non conviene estrarre oro. Quindi è un qualcosa di veramente sarebbe utile proprio anche per questo tipo di aziende che l'oro salisse. Detto questo dove può arrivare l'oro? Beh diciamo che un primo obiettivo che a mio avviso potrebbe essere già colpito nei primi sei mesi di questo nuovo anno di questo 2019 è questo 1361 quindi insomma in questo momento siamo a 1288 stiamo parlando di un rialzo molto interessante ma io credo che nella seconda metà del 2000 del 2019 i prezzi si sposteranno al di sopra di questo livello per poi continuare verso l'alto e a mio avviso credo che potremo vedere dei prezzi addirittura in area di 1545 quindi io credo che l'oro sarà uno strumento che nel corso del 2019 chiaramente tra alti e bassi non dimentichiamoci mai che i mercati non vanno sempre solo in una sola direzione ma appunto tra alti e bassi credo che potrebbe essere una grande sorpresa del 2019 anche perché oramai sono tanti anni che l'oro è un po' dimenticato qui appunto in questa fascia di prezzo bassa appunto dal 2013 che sostanzialmente non sta dando più soddisfazione agli investitori quindi credo che il 2019 sarà un anno per l'oro molto 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 importante e credo che questi step vengano poi di fatto raggiunti. Cosa ne pensi Andrew? Pensi che possa essere uno scenario plausibile oppure è un po' è un po' troppo ottimistico? Sì fino al 1360 assolutamente assolutamente sì direi che è chiaro sul grafico dopo dopo quel livello e dobbiamo vedere i volumi secondo me e se continuano con questo passo sarei d'accordo con te che arrivano anche anche più in alto con i prezzi e l'unico problema che avrei è che dopo dopo quel punto del 1360 poi non so dove dove si ferma perché il livello di 1600 è un po' lontano quindi quindi una volta che arriva lì direi che saremo tutti un po' più cauti dal punto di vista del trading perché sarà un intervallo diciamo non esplorato e difficile da calcolare. Esatto esatto la cosa importante appunto l'operatività va sempre divisa poi in step ben chiari appunto giustamente come diceva Hendrick le probabilità che i prezzi arrivano arrivino al livello di 1360 sono sicuramente più alte nel caso in cui ci arrivassimo possiamo liquidare sicuramente la posizione e aspettare una rottura di questo livello per poi eventualmente sfruttare un rimbalzo su di nuovo il livello che ci ha fatto andare a target per di nuovo metterci al rialzo però assolutamente sono movimenti che prenderanno anche delle tempistiche importanti quindi se dovessero i prezzi arrivare a target al di sopra di 1360 chiudiamo la posizione perché questo è un livello particolarmente difficile da superare guardate quante volte nel passato è stato colpito questo livello dei prezzi e ha sempre generato un movimento contrario molto molto importante ogni volta che i prezzi hanno colpito questo livello sono crollati quindi è molto probabile che prima di una rottura ci sia comunque un ritracciamento molto evidente e molto importante bene rimarrei se sei d'accordo Hendrick su un'altra materia prima che è il petrolio perché anche in questo caso a mio avviso siamo in una situazione davvero molto 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 interessante perché se andiamo a vedere anche qui un grafico di lungo termine vediamo che i prezzi sono proprio su un livello dove storicamente sono sempre partiti dei rialzi molto molto importanti quindi anche in questo caso abbiamo già visto adesso cancello questi disegni e faccio uno zoom per vedere un po meglio questo grafico dato che appunto già proprio nei primissimi nei primissimi giorni dell'anno anche qui abbiamo avuto un movimento importante verso l'alto dopo che appunto nella fase finale del del 2018 i prezzi davvero si erano scaracollati passando da 70 dollari a barile a 45 anche in questo caso a mio avviso è un qualcosa di molto interessante da da valutare un un investimento comunque un trading al rialzo sul petrolio proprio perché dal punto di vista tecnico siamo davvero in una zona particolarmente propizia per un rialzo vediamo che soprattutto dove i prezzi hanno rimbalzato pochi pochi giorni fa già i prezzi avevano creato una base di accumulo particolarmente importante e insomma da qui sembra proprio che i prezzi abbiano voglia di fare un bel movimento al rialzo teniamo presente anche che rispetto all'ultimo minimo davvero importante che è stato segnato nel dicembre del 2015 oramai sono passati parecchi anni quindi se andiamo a vedere più o meno come sono posizionati i minimi diciamo nel passato ci accorgiamo sostanzialmente che effettivamente potrebbe essere davvero arrivato il momento per una ripartenza per questa materia prima sulla quale è un po difficile fare dell'analisi tecnica proprio perché appunto è comunque una materia prima dove c'è un diciamo un'impronta politica particolarmente importante ecco qui diciamo non siamo proprio di fronte a un mercato libero dove appunto le la domanda e l'offerta si scontrano diciamo in maniera equa ma qui abbiamo l'OPEC abbiamo le varie nazioni produttrici che cercano di alzare o diminuire il prezzo a seconda dei loro giochi politici abbiamo gli americani che grazie alla tecnologia fracking sono diventati anche loro dei produttori molto importanti di di petroglio insomma stiamo parlando comunque del del famoso oro nero quindi di una materia prima che davvero nonostante stia piano piano perdendo di importanza perché abbiamo sempre più macchine elettriche piuttosto che eh mezzi di 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 trasporto alternativi ma chiaramente è ancora una materia prima estremamente fondamentale nella nel nello sviluppo appunto del delle varie economie alle quali siamo abituati molto interessante esatto ecco volevi aggiungere qualcosa Endri giusto sì volevo anche connettere con quello che dicevi prima sull'oro su sulla convenienza dell'estrazione dobbiamo anche considerare il fatto che tante di quelle caratteristiche si possono anche trasferire sullo stesso argomento anche sul petrolio come dicevi te ha già anche le guerre anche gli ambientalisti c'è Tesla ora che vende un sacco di macchine elettriche e fracking per esempio è bannato in tanti paesi quindi purtroppo il mercato dell'olio non è così libero e l'analisi tecnica ci aiuta molto eh specialmente quando eh vediamo eh appunto i volumi quando vediamo le tendenze ma c'è sempre in rischio il rischio col col petrolio che qualcuno intervenga e tipo ci siano delle manipolazioni di conseguenza eh l'olio un po' specialmente negli ultimi due tre anni direi da 2014 eh è collegato molto appunto anche a un rischio un po' più elevato eh e per i trader che eh vogliono rischiare vogliono rischiare un po' direi specialmente eh in questa eh in questa situazione ora che che sul grafico vediamo che il sia il supporto forte che la resistenza forte sono abbastanza lontane quindi esatto e la direzione ancora aperta direi il trend guarda a me la cosa che piace molto di questo grafico è questa che sto disegnando in questo momento ovvero questo minimo del 2008 che ha segnato un po' diciamo proprio il il punto più basso dopo questo grande crollo che c'è stato dai 147 dollari eh per per barile dove appunto i prezzi si sono scaracollati proprio sembrava appunto che il petrolio non dovesse morire esatto qualcosa è successo proprio a nel 2015 questo minimo è stato ulteriormente eh aggiornato con dei prezzi addirittura più bassi dopodiché appunto c'è stato il recupero ecco a mio avviso questo è stato proprio un momento chiave tra l'altro se guardi questo minimo è stato fatto con dei volumi assolutamente in crescita con dei volumi che sono stati molto più alti rispetto ai volumi che ci sono stati nel periodo in cui è stato fatto il minimo del 2008 quindi a mio avviso qui è palese che in tutta questa fase laterale che se noti è in dritte molto simile alla fase laterale che sta facendo adesso l'oro se guardi ha una struttura veramente molto molto simile al movimento che sta facendo l'oro in questo momento e guarda qua cosa è successo esattamente quello che mi aspetto io sull'oro contando appunto che qui ci sono stati dei fortissimi volumi a mio avviso tutta questa zona ripeto per l'ennesima volta esattamente come sta succedendo sull'oro è una forte zona di accumulo dove evidentemente grossi investitori hanno comprato massicce dosi di petrolio quindi staremo staremo a vedere però io non credo che nel 2019 vengano aggiornati questi minimi che sono stati fatti pochi giorni fa anzi credo che nei primi sei mesi del 2019 potremo rivedere i massimi in area 72 e poi perché no un ritorno al di sopra degli 80 dollari a barrile non so tu come la vedi ma a mio avviso questo è uno scenario assolutamente plausibile e il problema con l'oro e con l'olio scusami è che se arriva a prezzi così alti e la tentazione per avere un intervento dai dai governi sarà troppo alta quindi assolutamente direi che fino a 70 magari anche 80 potrebbe arrivarci ma la vedo un po dura che arrivi ai massimi del 2012 o quello del 2007 perché cambia con il mondo questo prezzo esatto e ogni due tre anni vanno fatte nuove previsioni guarda sono estremamente d'accordo con quello che dici anche perché giusto per farci capire anche che da chi ci ascolta da da casa se i prezzi dovessero arrivare per esempio sopra i 100 dollari barile provate immaginare quante nuove tecnologie e risorse energetiche diventano convenienti cosa significa questo se per dire oggi il prezzo del il prezzo del petrolio a 50 dollari a barile rende per esempio gli scavi sotto i ghiacci del nord magari non convenienti un prezzo doppio chiaramente farebbe diventare conveniente magari degli scavi profondi il doppio detto questo chiaramente anche tutte le energie alternative diventano più appetibili con un dollaro che costa di più cosa significa se il prezzo del petrolio arriva a 100 dollari barile molto probabilmente vedremo di nuovo un'ondata di pannelli solari piuttosto che torri macchine elettriche esatto esatto impianti eolici e tutto questo tipo di appunto energie alternative che magari adesso sono un po' assopite semplicemente per il fatto che tutto sommato è ancora conveniente bruciare gasolio per 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 riscaldare le case cucinare ecco e chiaramente muoversi con i mezzi di trasporto quindi è una materia prima comunque che è destinata a finire nei negli anni tant'è che paesi grandi produttori stanno puntando molto sulle energie alternative e sono estremamente consapevoli del fatto che prima o poi è una risorsa che finirà detto questo io vi consiglio di vedere una puntata di report della quale trovate la registrazione online dove appunto si vede come gli emiri da Dubai ad Abu Dhabi stanno proprio puntando su tanti altri settori proprio perché sono consapevoli del fatto che prima o poi questa materia prima finirà o comunque non sarà più utilizzabile per problemi ambientali e mi ricordo che c'è una frase bellissima a mio avviso di appunto un'intervista fatta ad un emiro che dice quando estrarremo l'ultima goccia di petrolio dobbiamo arrivare al punto che brinderemo ecco quindi adesso io non so quanto brinderanno perché da 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 pecorai sono diventati più ricchi del mondo adesso mantenere quegli standard di vita non so quanto sarà possibile però insomma io gli auguro tutto il bene del mondo fino a quando c'è la crisi di tra gli stati uniti e l'iran direi che sono a posto se a un certo punto quella va risolta allora allora ne vedremo delle belle vedremo 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 staremo staremo a vedere proviamo a tracciare prima di passare un altro strumento una trend line proprio che congiunga i massimi appunto ecco qua che congiunga questo massimo del 2007 2008 con questo massimo del del 2014 e vediamo sostanzialmente che qui il trend è assolutamente ribassista c'è spazio per un ritorno appunto appena sotto agli 80 dollari barile ma non credo appunto che vedremo sorprese particolari e nel 2019 proprio dovute ai motivi che dicevamo prima bene 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 io direi di passare a vedere gli indici che sono un po diciamo gli strumenti che interessano un po di più i trader e vorrei partire con l'indice tedesco perché vorrei partire con l'indice tedesco perché l'indice tedesco pochi lo sanno ma è un indice anticipatore su tutti gli altri indici mondiali quindi significa sostanzialmente che si muove in anticipo rispetto a tutte le altre economie e in questo caso che cosa vediamo beh vediamo prima di tutto che c'è stato a cavallo di fine anno inizio anno nuovo un bel ribassone che ha portato i prezzi appunto di nuovo appena sopra l'area di 10.000 una soglia psicologica particolarmente importante però la domanda android che tutti si fanno è molto semplice è cominciato per davvero il ribasso oppure questo è solo un ritracciamento prima di una ripartenza verso l'alto ma io il ribasso non lo vedo così forte l'ho sentito anch'io da tanti da tanti analisti e secondo me è gennaio quindi è anche un po naturale che le aziende specialmente col brexit con i problemi della merkel con l'unione europea si tengano un po più riservate però il potenziale c'è 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 sempre comunque l'economia tedesca sta andando benissimo quindi non mi non mi esporrei così tanto a andare andare short su sul dax almeno fino a quando non vedo i volumi un po più più abbassati se vediamo già da già da 2014 nel senso il dax è un prodotto che tutti hanno tradato prima o poi andranno a tradare comunque quindi c'ha c'ha dei bei volumi e della bella volatilità di conseguenza questo questo rialzo che vediamo da da tre anni del trading del dax non non va necessariamente a essere mantenuto in questi livelli so che continua a crescere però non so se una crescita che andrà avanti per molto tempo io aspetterei normalmente che 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 arrivi almeno a 11.370 prima di prima di confermare appunto manco la crescita però se crolla vediamo che c'è molto spazio poi questo è un supporto che non va che non va a garantire un ribasso lento diciamo se avviene sarà sarà molto accelerato guarda io sono assolutamente ribassista e adesso ti spiego ti spiego quindi allora la prima cosa che vediamo è che appunto dopo aver rotto i massimi ecco un attimo che prendo la penna così cerco di far vedere bene una volta che i prezzi hanno aggiornato i massimi storici qui hanno disegnato proprio una figura di inversione estremamente potente estremamente pulita e precisa che è appunto il test e spalle quindi noi abbiamo un test e spalle della durata di fatto di tre anni due anni e mezzo che rappresenta una un movimento di distribuzione contiamo prima di tutto che stiamo parlando di un mercato che sale dal 2000 dal 13 aprile del 2009 quindi stiamo parlando di un mercato che negli ultimi anni 10 anni è solamente salito e in più ti faccio notare questa cosa i grossi ribassi sulle borse avvengono chiaramente non sempre ma quasi sempre negli anni che finiscono con 9 e 0 e infatti se andiamo a pensare per esempio la crisi del 1929 ecco che vediamo proprio un 9 alla fine di questa di questa annata quindi questo lo dico perché perché appunto storicamente i mercati si muovono proprio a cicli di 10 anni e in questo caso appunto abbastanza puntuale sembra arrivato un primo scossone che è stato uno scossone tra i più importanti appunto negli ultimi dieci anni quindi insomma già un primo segnale eh abbastanza brutto ce l'abbiamo ce l'abbiamo avuto detto questo eh abbiamo avuto un movimento ribassista come si vede qua che si è sviluppato con dei volumi assolutamente in crescita tutta questa figura di inversione si è sviluppata con dei volumi in crescita cosa che mi fa pensare appunto che la distribuzione ovvero le vendite che sono avvenuti in questa zona siano proprio delle vendite molto molto importanti però non è finita qua le brutte notizie brutte tra virgolette eh perché poi appunto basta posizionarsi short e se crolla si fanno molti più soldi e molto più velocemente però se andiamo a tracciare una trend line che congiunga i minimi il minimo di partenza appunto nel 2009 lo congiungiamo con questo minimo del 2011 vediamo che siamo ancora molto distanti dai prezzi cosa che ci obbliga a tracciare una ops ho sbagliato che ci obbliga a tracciare una seconda trend line ecco sbagliato un attimo che ci obbliga a tracciare una seconda trend line niente non riesco a tracciare la trend line eccola qua una seconda trend line dai minimi appunto che abbiamo visto prima perfetto e vediamo che questa trend line adesso faccio un bello zoom è stata rotta in maniera molto precisa se guardi si vede proprio che è una trend line che è stata sentita molto dai prezzi proprio perché in seguito alla rottura c'è stato anche il movimento di rimbalzo verso l'alto verso proprio il punto di rottura quindi essendo che il dax è un indice anticipatore è molto probabile a mio avviso allora di base facendo un'analisi tecnica proprio semplicissima una volta che una trend line viene rotta come in questo caso eccolo qua le probabilità che i prezzi vadano sulla trend line subito precedente sono altissime quindi in questo caso noi abbiamo un trend che sta segnando massimi e minimi decrescenti ecco qua e a mio avviso con buone probabilità arriverà su questa trend line da questa trend line io credo che essendo i prezzi tornati in una zona molto importante al di sotto di una soglia psicologica importantissima che è quella dei 10.000 punti allora da lì si potrà cominciare ad accumulare per mettersi di nuovo long però ecco la situazione tecnica su questo grafico è molto chiara a mio avviso e in seguito a una rottura così ben fatta e un movimento così pulito credo che sarà molto improbabile che i prezzi non vadano appunto chiaramente sempre tra alti e bassi e non sto dicendo che bisogna mettersi short adesso e da domani vedremo solo ribassi no assolutamente sto dicendo che tra alti e bassi si arriverà secondo me su questa trend line tant'è che personalmente volevo ho iniziato a pensare di investire per fare dei piani anche di accumulo su gli indici ma credo appunto che sia troppo presto proprio perché il dax che è un indice anticipatore ha ancora tanto 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 spazio nella parte bassa che dici andry si mi stai convincendo piano piano esatto sono d'accordo specialmente con l'ultima parte nel senso c'è ancora un po di supporto su 10.5 10.4 da qualche parte quindi ancora c'è speranza per un crollo così controllato diciamo però però assolutamente quello che dici te ci sta e secondo me c'è c'è da monitorare perché assolutamente che può che può accadere e vedremo appunto come va come va anche dal punto di vista fondamentale però il grafico racconta questa storia con le trend line è difficile tipo avere un argomento contro quello che hai appena detto guarda ti faccio vedere tra l'altro un un grafico che ho creato io dove si vede sostanzialmente con la linea blu i prezzi attuali qui stiamo parlando di s&p 500 che poi andiamo a vedere anche sulla piattaforma di atfx che è comparato con l'andamento del periodo 2003 2009 e come vedi c'è una similitudine veramente molto molto alta a tratti veramente impressionante e con una precisione di minimi e massimi a mio avviso davvero incredibile e come vedi guarda proprio in questo caso lo sta seguendo ma la cosa molto interessante a mio avviso è questa ovvero che proprio dai prezzi attuali dove è già stato fatto un minimo è molto probabile che ci sarà un bel rialzo un bel rialzo che porterà magari i prezzi appunto anche del dax a tornare in un'area molto molto alta che faccia pensare poi appunto che i prezzi sono tornati a salire ecco se io dovessi decidere di fare un'operazione io farei un bello short qualora i prezzi arrivassero qui su questo livello che stiamo parlando comunque di un livello vicino ai 12 mila punti e quindi mille punti di dax in più rispetto ai prezzi attuali quindi chiaramente qui stiamo facendo un'analisi di lungo termine perché dobbiamo coprire un po tutto l'anno però io credo che sia assolutamente troppo presto per comprare per il lungo termine anzi vedo nel 2019 delle possibilità davvero di fare delle belle operazioni speculative anche short anche long e attenzione perché non sto dicendo aspettiamo che arrivino qua i prezzi per metterci short tutto questo tragitto lo possiamo sfruttare con operazioni magari di breve termine a rialzo perché comunque le probabilità che i prezzi salgano ci sono sono alte c'è spazio per un bel rimbalzo lo vediamo anche in questo grafico qua certo che se effettivamente i prezzi dovessero arrivare dove abbiamo visto eccolo qua torno sulla piattaforma da lì a mio avviso c'è davvero molte possibilità che da lì comincino veramente i guai tra virgolette per i mercati azionari sì direi chi chi vuole andare long non deve aspettare molto invece chi vuole andare short si può permettere anche ancora qualche settimana di analisi per essere sicuro molto interessante questa questa situazione e soprattutto questa comparazione col passato perché sai dopo dieci anni che le borse salgono ci si abitua al fatto che le borse salgono e poi arriva un momento in cui ops le borse sono sotto del 50 per cento ecco quindi secondo me nel 2019 non dobbiamo far questo errore non dobbiamo far l'errore di pensare che le borse saliranno per sempre questo è assolutamente rischioso troppo tempo è passato dal minimo scorso infatti è quello che dicevi te giusto qualche minuto fa dei cicli della crisi economica che si ripete ogni dieci anni insomma abbiamo avuto una il 2007 diciamo e quindi ora direi che se se dovesse succedere in pochi ci ci sorprenderemo certo assolutamente assolutamente però ti assicuro che in tanti ci rimarranno col cerino in mano quindi bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione volevo far vedere prima magari di rispondere a qualche domanda se ci ne sono l'S&P 500 che comunque rimane adesso cancello i disegni comunque rimane lo strumento assolutamente più importante all'interno del mercato mondiale di qualsiasi mercato mondiale e qui chiaramente abbiamo una situazione che oramai tutti conosciamo abbiamo sostanzialmente questo minimo da cui sono partiti i prezzi che davvero hanno generato un trend incredibilmente potente che appunto è ancora in atto perché se guardiamo questo trend ci accorgiamo di come i prezzi di fatto siano ancora stabilmente al di sopra di questa trend line una trend line che appunto sulla quale i prezzi hanno rimbalzato proprio a cavallo del nuovo anno con dei volumi altissimi perché ci sono stati dei volumi altissimi degli acquisti veramente pesanti su questo minimo e qui devo dire che la situazione diventa un po' meno chiara guardando questo grafico e quello del DAX perché se sul DAX vediamo appunto che c'è molto spazio nella parte bassa qui sembra proprio che i prezzi abbiano voglia di ripartire verso l'alto senza farsi troppi problemi però 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 c'è un però l'abbiamo detto prima il motivo per cui ho analizzato per prima il DAX è quello che vi dicevo ovvero che il DAX è un indice anticipatore qui si cominciano a vedere sul mercato americano delle situazioni abbastanza scomode questi rialzi sono stati causati o sono stati segnati grazie alle compagnie tecnologiche che per anni hanno fatto utili 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 sempre maggiori ora comincia un po' la situazione a scricchiolare perché abbiamo un Amazon sempre più vicino ad un rischio di insomma non è tanto amata da Trump perché sta un po' uccidendo l'economia territoriale americana perché tanti negozi stanno chiudendo tra virgolette per l'effetto Amazon Apple una della compagnia più grossa al mondo che è arrivata a valere addirittura un mille miliardi di dollari quindi una cifra veramente record mai raggiunta da nessun'altra azienda ha comunicato di dover tagliare la produzione di telefoni nei prossimi comunicati non comunicheranno più quanti telefoni hanno venduto quindi insomma per quanto la Apple sia una grandissima azienda che è riuscita in maniera egregia a creare tutto un ecosistema di prodotti accessori attorno al loro prodotto principale che è l'iPhone però insomma comincia a calare la crescita di questa azienda e non potrebbe essere così dato che è un'azienda che è arrivata a essere tra le più grandi al mondo ecco quindi io personalmente credo che questo ribasso ci debba far un po' ragionare proprio perché è un ribasso avvenuto con volumi in forte crescita e io credo che appunto anche in questo caso possiamo pensare che i prezzi arrivino magari anche più in alto di dove sono adesso ma a mio avviso siamo di fronte a un anno in cui con buone probabilità questa trendline verrà rotta e se dovessero i prezzi rompere con forza questa trendline beh allora ne vedremo davvero delle belle perché è molto probabile che vedremo addirittura già entro la fine dell'anno delle percentuali di negative negative davvero molto alte anche addirittura superiore al 50% questo è come la vedo io non so tu cosa ne pensi sul mercato americano Henry dipende appunto da queste società che vanno a avere un effetto abbastanza forte sull'indice appunto quando uno legge che le azioni di Apple sono crollate oppure che Amazon è diventata ad un tratto l'azienda più grande al mondo che ha superato appunto anche Apple quando senti queste notizie assolutamente anche gli investitori finiscono che la parte psicologica gli invia un po' in panico direi quindi se si tratta di un trend che ritornerà giù allora direi che si può rompere quel livello però al momento direi che non ho paura direi e secondo me questi alti volumi vanno a segnalare proprio un po' il panico degli investitori quindi non so dire per certezza se è una cosa che continuerà o meno direi che verso marzo o anche un po' più avanti si vedrà chiaramente quello che dici te ha senso non tutti possono comprarsi un telefono di mille pound, di mille euro ogni anno e infatti anche Apple se ne è accorta e come tutte le aziende tecnologiche deve trovare una nuova un prodotto flagship comunque cominciano ad arrivare anche tante alternative tanti prodotti alternativi molto belli molto performanti quindi insomma è difficile stare sulla cresta dell'onda per più di dieci anni quindi secondo me siamo proprio arrivati un po' al momento ha avuto il suo meglio si ha avuto il suo meglio e ora c'è la concorrenza della Cina abbiamo società come Huawei oppure OnePlus oppure altri telefoni che ora in Europa li comprano tutti insomma che costano la metà e di conseguenza Apple sta soffrendo Amazon invece per quanto Trump la odi e anche tanti di noi direi che sta andando molto bene il loro business model è abbastanza diversificato e ovviamente la gente pensa sempre ai pacchetti che arrivano a casa ai negozi che chiudono ma Amazon ha anche dei cloud dei data centers grandissimi dove sono tutte le società grandi del mondo ne fanno parte quindi Amazon è più protetta da questi shock e tante altre aziende sull'S&P sono messe più o meno nella stessa situazione e a me per questo piace l'indice americano perché non è come il DAX che dipende da due o tre industrie invece l'indice americano è un po' più diversificato quindi è quello che dicevi te dell'indice tedesco che anticipa le cose invece l'indice americano è più sistemico quindi va a riflettere più industrie e di conseguenza i sbalzi sono più lenti direi per chi segue entrambi io continuerei a aggiornare quell'analisi che ci hai mostrato dieci minuti fa dove comparavi un po' appunto gli indici e direi guardate sempre il DAX e pensate, non so, qualche mese prima così poi ragionate anche sull'S&P certo, certo bene, Endrit, io direi che per questa sera ci possiamo fermare qua se avete qualche domanda appunto per Endrit, per ATFX vi ho già mostrato prima la pagina ecco, ve la mostro ancora e ve l'ho anche inviata nella chat e chi invece vedrà la registrazione troverà questo link all'interno della descrizione del video se avete qualche domanda fatela direttamente contattando Endrit e direi, Endrit, che abbiamo fatto una bella presentazione di tutto quanto ti lascio a te la parola così puoi salutare tutti e dire qualche altra informazione magari su ATFX assolutamente grazie a tutti che hanno partecipato che sono registrati a te Luca come sempre e per chi vuole saperne di più il sito rimane sempre ATFX.com oppure i contatti che vedete appunto sia sulla pagina oppure ci potete anche scrivere direttamente l'email a sales.uk chiocciolati.fx.com oppure usate anche la chat sul sito per qualsiasi domanda siamo qua è un piacere andare anche un po' più in dettaglio per chi vuole esplorare più cose per quelli che invece vogliono chiederci cose su che non sono sul sito contattateci direttamente così ci possiamo sempre mantenere in contatto bene io ringrazio tutti Paolo, Angelo, Manuele Massimo Massimo abbiamo due Massimi un altro Paolo Angelo insomma siete come al solito tantissimi io vi ringrazio grazie a Endrit grazie a TFX e buon trading a tutti buona serata